I locali sono vuoti solo perché li abbiamo visitati prima dell'orario d'apertura, ma anche a Taranto l'ingresso in zona bianca, lo stop al covrifuoco e alle limitazioni orarie ha generato un'autentica ondata di entusiasmo tra gli avventori di ristoranti American Bar e Pub. Abbiamo ascoltato due imprenditori del settore, Angelo Matechiera del ristorante La Paranza e Giuseppe Mirabile di Terrazze Vibe che ci hanno raccontato la loro esperienza in queste prime giornate di ritrovata libertà. Si incomincia a respirare di nuovo un clima che era un anno circa che non respiravamo in città, quindi un clima rilassato, la gente può uscire più tranquilla, può godersi meglio la serata. Io penso che un po' tutti i ristoranti siano pieni, registrano sempre il tutto esaurito perché la gente comunque, dopo tanto tempo, questa è stata molto dura, sono stati otto mesi di, non di lockdown, ma di sacrifici, quindi la gente ha voglia di uscire. C'è molta voglia di tornare alla vita normale e godersi le serate in piena armonia, senza fretta, senza la paura di tornare a casa di corsa, senza lasciare a metà le consumazioni, insomma, sono molto soddisfatto e la gente sta rispondendo molto bene. Diciamo che da parte sua c'era stata anche la volontà di tenere chiuso finché non ci fosse stata una situazione di maggiore regolarità. È un format esclusivamente serale, motivo per il quale nella nostra mission c'è la coccola del cliente, la cura del cliente, non ci piace ovviamente lavorare con ansia, cacciarli o chiedere anche gentilmente di lasciare il tavolo perché il cliente è il vero proprietario della nostra attività. Grazie a tutti.